chris ci attende stasera signor john sono appena arrivato e tutte le magie costano vita invece che mana c'è un personaggio di meridemi che le piacerebbe doppiare i camminari oh yes madonna ragazzi bello così la realtà si intreccia dobbiamo però necessariamente fare prep e trovare un modo per uccidere questo stronzo se no ce lo prendiamo nel culo scontiamo a 4 salto funesto prep sventramento va bene wick adesso lo proviamo e vedrai che è così si si spell hunter turn 1 finite le carte perso più di metà vita ciao namberdrico è la rissa ryuk let's go oh ciao ciao Grazie Cosa mi consigli per la taverna? Per la taverna? Già non c'è il cubo che ti fa ritornare la tua arma distrutta in mano? No, tanto ho già un'altra lama ombra Grazie Passo nell'ombra, bello passo nell'ombra Turno prossimo facciamo coin, banditore Dopodiché passo nell'ombra Sì perché così turno sette possiamo fare No, mi spiace Ce la chiudiamo adesso Non posso giocare questa carta Ci metteremo un po' Quante carte abbiamo in mano? 9 Grazie, ciao Che bello Così Luce sacra Stilettata Perché passi nell'ombra? Per l'ingegnere novizia O per riprendermi un banditore di meccaniche a costo diminuito? Benedizione del re Bene Benissimo Doppio scatto Uh doppia evasione Hooter Tira ventificatrice Un'altra, grazie Un dannino Guardia nera Ok Grazie Vedi se non ti chiudono a turno 2 Sto mazzo è molto divertente Banditore, assalto, evasione Un altro assalto Ma non ho messo i pixax guy Lo metto poi in montaggio Les musoni Mormazzi meme Sì questo qui è uno dei miei mantra Va bene Però mi devi dare anche adesso L'altra lama Quella skin è a pagamento? No, la davano con il biglietto del blitzcon Tipo due anni fa No, la davano con twitch prime Qualche anno fa Ok Sarebbe bellissimo Se la candela Avessero delle preferenze Sugli eroi Oh yes Oh yes Mi dai una magia Per favore Benedictus Benedictus Eeeh 9 carte in mano Yeeeh No il binding heal Non lo posso usare Eh, ok Ancora una Me lo posso permettere Basta Grazie Non è più giocabile Non è più giocabile E' in wild Oh yes Ciao L'illusionista violacea Ragazzi Aia Aia Tocca Tocca a me Non un mind blast Ok Ok Bella Non credo Wow Ah, è l'elisir della vita Dai Dai Dammi magie Bella giocata Mmm Ma porca troia Dammi una magia Due anime del drago Sei ragione Quanto rimane ancora in live Penso una decina di minuti Devo pensarci bene Sì Cioè non ho trovato cure Non ho trovato un cazzo Vabbè via il banditore Sti cazzi Thank you Minchia Dammi Dammi Ti prego Taglio di lame Genniare una vizia Yes Cazzo Ok Mi serve un danno Un mind blast Su Un mind blast Va bene Un mind blast Dio santo Porca troia Un mind blast Oh Ci voleva tanto Oh Ma ma è possibile Ma è possibile